Il torneo sta per cambiare per sempre. Il più misterioso elemento partecipante di tutti sta per mettere piede sul pianeta. Ragazzi, bentornati in Dragon Ball Multiverse, parte 19. Qua le cose iniziano veramente a cambiare. Ci stiamo dirigendo sempre di più verso la fine di questo manga, di fatto. Manca ancora un bel po', eh? Cioè, non siamo neanche a metà da quello che vedo, però stiamo andando belli speriti. Come sempre, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi, di mettere mi piace, ma prima di cominciare vi ricordo una cosa importantissima, ovvero che questo canale è sostenuto dal nostro negozio, si chiama Redoc, trovate un sacco di prodotti a tema Dragon Ball. Ovviamente il link è in descrizione, avete anche i poster personalizzabili, non ve ne dimenticate. Avete a disposizione anche il codice sconto YouTube per avere il 10% di sconto e ricordatevi che con 60€ di spesa la spedizione è sempre gratuita. Ecco, dopo questa veloce intro, io direi di dirigersi subito all'inizio di questo capitolo, che come sempre parte proprio dove ci siamo fermati la volta scorsa. Essere misterioso si dirige nell'arena e Vegito inizia già a notare che c'è qualcosa che non va. Infatti, probabilmente un mago, anche perché sta parlando una lingua strana sconosciuta, e vuole eliminarlo ancora prima di dargli tempo di fare qualcosa di strano. Vegito, infatti, in un man che non si dica, si ritrova in una dimensione oscura. Proprio la cosa strana di cui stava parlando, e non capisce effettivamente cosa è successo. Si è teletrasportato, è stato messo in un'altra dimensione, ancora non ha ben chiaro effettivamente cosa è successo, però deve sbrigarsi ad uscirne, proprio perché se dovesse aspettare più di 30 secondi, probabilmente allora perderebbe lo scontro. Peccato però che per Vegito sia abbastanza semplice distruggere l'incantesimo. Difatti semplicemente utilizza la sua forma Super Saiyan e l'illusione scompare. Vegito è tornato pronto di nuovo a combattere, e si gira, ma vede, con una sorpresa assurda, che lo scontro è già finito. E adesso si stanno scontrando Bardak, che è già nella sua forma Super Saiyan, contro il Re Cold. E Vegito si ritrova lì, completamente a caso. Ragazzi, Vegito è scioccato, gli altri neanche lo calcolano più di tanto, continuano il loro combattimento, e tra l'altro dal pubblico bra, inizia a urlare pure, papà ma sei proprio un bastardo, sei arrivato dopo tantissimo tempo. E lui non capisce effettivamente che cosa è successo. Quanto pare, Vegito non si è reso conto del tempo passato, e si innervosisce, proprio perché nessuno lo vuole ascoltare, e quindi manda KO sia il Re Cold che Bardak, contemporaneamente. Vegito scopre quindi, attraverso i Vargas, che è stato eliminato dal torneo, proprio perché è mancato dall'arena per un'ora e 44 minuti, perdendosi molti scontri, tra cui quello appunto di sua figlia Bra. Effettivamente Vegito, ragazzi, non se ne rende conto, però a quanto pare è 21, il suo sfidante, e lo ha rinchiuso in una dimensione in cui il tempo passa in modo molto molto diverso, e nonostante per lui siano passati solo 20 secondi, per loro sono passati 200 minuti. Quindi scioccato e costretto ad abbandonare il campo, si rende conto che l'avversario ha usato una sorta di stanza dello spirito del tempo, ma in modo inverso. Bardak comunque si avvicina verso la fusione dicendo di guarda, adesso che ti sei reso conto di tutto questo, possiamo continuare il nostro match. Ma sfortunatamente Bardak ha un'altra visione. A quanto pare vede Goku e Bra che stanno parlando, e Goku sembra essere convinto che possa trovare un modo per sconfiggere Vegito. Ma Bra si arrabbia e spiega che Vegito è invincibile, quindi non c'è modo per sconfiggerlo. Vediamo anche Gohan con in mano una sfera del drago distrutta, che dice non vi preoccupate, fino a quando avremo questa non potrà esaudire il suo desiderio. E anche altri personaggi che discutono, Vegeta, Yamcha, Piccolo, Bra, e non capisce cosa stia succedendo, ma la cosa sicura è che Vegito è al centro di tutto questo. Comunque la visione viene interrotta da Gohan, che sale sul ring cercando di convincere suo padre di tornare giù. Vegito però dice ragazzi questo è stato un inganno, io non dovrei neanche perdere, cioè queste regole sono semplicemente molto stupide. Ovviamente Gohan cerca di convincerlo, nonostante Vegito non sia veramente assolutamente convincibile in questo senso, che deve abbandonare il ring, anche perché altrimenti tutti quanti del loro universo torneranno a casa e Pan non verrà resuscitata. Vegito quindi, capendo questa cosa, decide di utilizzare il teletrasporto per andarsene e meditare da solo. Nel frattempo Zen Buu chiede ai vari Vargas di chiedere allo sfidante un rematch. Fortunatamente Bardak pensa che tutte le visioni quindi non accadranno, perché a quanto pare il nostro Vegito se n'è andato, ma proprio perché il numero 21 non ha risposto, Buu inizia a innervosirsi e dice mi state prendendo in giro? Arriva però una dei Kaioshin dell'universo 1 dicendo mi scusi signore ma non è lei che deve decidere ovviamente le sorti del torneo, perché Buu si sta innervosendo sempre di più, ma Buu che cosa fa? Prende a pugni la Kaioshin dicendo che lui è ovunque, che ha le sfere del drago, che ha la tecnologia, che sa ogni segreto dei presenti e ora decide chi vive, chi muore e chi viene assorbito. Buu inizia quindi a dividersi in tutto il torneo e inizia a assorbire tutti. Tutti quanti sembrano essere coinvolti nel combattimento e iniziano a vedere effettivamente le varie parti di Buu che attaccano i guerrieri. Anche la tecnologia di Vargas a quanto pare non funziona, perché Buu è entrato nella tecnologia durante la notte a quanto pare e adesso è lui che decide tutto quanto, quello che c'è nel torneo. Vengono tutti assorbiti, solo alcuni personaggi effettivamente riescono a sopravvivere, ma Buu ne ha abbastanza e il torneo per lui finisce qui. Addirittura Buu oltre ad aver assorbito un sacco di persone inizia anche a decidere i prossimi combattimenti. L'unica che effettivamente prova a sconfiggerlo è Bra, la figlia di Vegito, chiedendosi anche dove sia finito suo padre, l'unico che probabilmente potrebbe provare a sconfiggerlo. Vegito però è in una distanza calcolabile in anni luce, pensate, che sta colpendo delle meteore. Ripensa a quello che è successo, perché una opportunità del genere è stata completamente sventata per colpa di un mago, un mago molto molto banale tra l'altro di un universo sconosciuto e pensa anche che avrebbe voluto prendere a pugni suo figlio Gohan. Si è trasformato praticamente in Bra, però si rende conto che effettivamente Gohan aveva ragione e quindi semplicemente lui si deve controllare meglio e inizia a meditare su uno degli asteroidi. A quanto pare sono tutti mischiati in questa faccenda. Bra sta per raggiungere la sua forma Super Saiyan di secondo livello quando Gohan cerca di fermarla, perché a quanto pare ancora non controlla quel potere. Ma l'unico che non sembra essere toccato da questi poteri, sapete chi è? Il Namecciano senza nome. Colui che nel suo universo, per affrontare Freezer, ha assorbito tutti i Namecciani del pianeta Namek e ha iniziato a vagare per l'universo da solo. E gli basta una parola per fermare tutto. Basta. Questo basta è necessario e abbastanza per fermare l'attacco di Boo. Tutte le parti di Boo infatti tornano al mittente, tornano al Boo originale. Addirittura, utilizzando una magia Namecciana sconosciuta, questo Namecciano rinchiude lo stesso Zen Boo in una sorta di sfera gommosa, dicendo tranquillamente, ok, da adesso in poi tu ti calmi. Una scena del genere talmente tanto umiliante per il nostro Zen Boo è abbastanza anche per concludere questo episodio qua, ragazzi. La parte 19 di Dragon Ball Multiverse finisce in questo modo. Vedremo effettivamente gli effetti di questa sorta di rivoluzione di Boo però nelle prossime parti. Mi raccomando, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. E noi ci vediamo prestissimo, come sempre, con altri video a tema Dragon Ball. Ciao ragazzi!